ritenzione idrica gonfiore anche gli occhi quando ci svegliamo al mattino parola d'ordine è drenare e allora oggi vi propongo una tisana proprio drenante che aiuta quindi ad eliminare i liquidi in eccesso è a base di foglie di betulla perché la betulla è proprio una pianta in fitoterapia nota per le sue proprietà drenanti addirittura si dice che possa aiutare ovviamente abbinato ad uno stile di vita sano ovviamente ad un'alimentazione corretta del movimento anche a contrastare la tanto odiata buccia d'arancio la pelle a buccia d'arancio ecco come prepararla allora prendiamo dell'acqua la portiamo a bollore qui ho un bollitore e per una tazza di tisana prendiamo circa due cucchiaini abbondanti di foglie di betulla abbiamo portato l'acqua a bollore versiamo e lasciamo poi in infusione mi raccomando sempre ben coperto le nostre foglie di betulla in modo tale che rilasceranno all'interno dell'acqua tutte le proprietà e possiamo poi sorseggiarla nel corso della giornata si è gradito anche una fetta di limone che comunque il limone aiuta il digestivo aiuta anche insomma a depurare l'organismo ecco qui versiamo e sorseggiamo grazie grazie grazie